ragazzi allora facciamo una piccola riflessione a caso di pompa ok perché si parla del testo sterone a quello che ha avuto nella prima giornata di campionato perché oggi c'è la notizia ufficiale che Pogba aveva richiesto nella controanalisi di questo problema qua e quindi ne parleremo di questo ok perché hanno speso 30 milioni su Pogba all'ingaggio di questo elevato da noi ventus però ricoprendo il ruolo del centrocampista francese ok che qua hanno iniziato a criticare al nostro corpo e questo non va bene ok e se comunica una cosa il giocatore perché se non entra tra il giocatore francese e la alimentus ora può anche essere squalificato di un anno o due anni ok ma non di tre o quattro va bene perché sennò non lo recupereremo mai ecco perché Pogba ha detto così che nelle controanalisi problemi del testosterone ok quindi questa è la mia opinione riguardo su Pogba ok quindi questo è tutto però cominciamo a dire le cose rendermi del amore va bene e quindi noi ce la possiamo fare e ottenendo i tre punti fondamentali perché l'alimentus ospita il Torino in casa nostra quindi in due annunci ufficiali quindi la prima notizia era questa poi la seconda notizia che la prima notizia entra in panchina e sarà ancora in gruppo Milik e Moisekin ok quindi l'attacco è sempre quello tra Kin e Chisa ok qua si importa mettere gli accessi con un G parate fatte e in due parate sensazionali avrò quello controvisa su uno perché si è allungato con la mano di destra e quindi ho fatto un'ottima parata eccezionale ok quindi scesimi in porta poi in difesa hanno recuperato i vari gatti anche Bremmer e Danilo ok e qua ci sta poi in centrocampo perché i pantrini metteni hanno il tocchè in giocca in centrocampo il vantaggio su Costich e poi vera alla destra con nocateni, rambio e miretti ok e l'attacco è formato da Moisekin e Chisa come avevo detto precedentemente questa è la mia formazione che mi dirà questa è la mia formazione che mi dirà sabato in vista del derby ok quindi stimo almeno due giorni da una partita di Giove Toro e così sarà ok mentre la terza notizia ufficiale arriva dal comunicato da Naio Mendoza ok quindi i tifosi utrisi ma pensano così perché io sono a far parte di loro e so che un e so che ti farei per Naio Mendoza ma va sostenuta la mania e la sostenuta anche la squadra nei momenti più difficili ok e dobbiamo sostenere anche i nostri colori va bene quindi questo è quello che ci vuole è di mano a carica ai ragazzi all'ambiente della e andare qui e andare alla società anche quindi io voglio questo mi raccomando e fino alla fine ragazzi perché si vince sabato pomeriggio non me ne importa ok e questo che voglio io voglio tornare alla vittoria e tre punti in classifica ci muoiono fondamentali ragazzi i tre punti fondamentali va bene quindi questo è tutto e noi ci mandiamo a stasera per commentare altre due partite quindi c'è l'Atalanta e la Roma mentre in conferenza c'è la Fiorentina che entra a sfidare il Ferenza Maros così si pronuncia ok quello che abbiamo battuto in Champions nell'anno compirlo però però Alec è tornato dopo ogni due anni e ha già un contratto fino a quattro anni perché questa è la sua terza panchina e non è l'ultima ok quindi speriamo che Anetri rimarrà sulla panchina della Juventus a vita e lo voglio rinomare a Max Anetri sempre perché è indifendibile come aniatore non so quello che la pensate voi ma io no ok quindi ho detto la mia su un aniatore però non cambiamo sempre anni aniatori perché io a Conte non la voglio un'altra volta sulla panchina della Juventus e sto che ci è traditi perché non lo ammettete questo? quindi questo è il fatto di oggi quindi queste tre notizie ufficiali ne sono ok ok quindi quindi a disposizione in campo ci sono unci e unci e fanno venti due i titolari ok mentre in panchina ne sono venti tre giocatori quindi questi sono i numeri ok ok poi poi c'è ancora un fesso in bilancio perché la exorna pensa così su un aumento di capitale che significherebbe che significherebbe almeno di cento dieci milioni in rosso nel faso in bilancio più i due cento dieci milioni da duemila venti due venti tre e duemila venti tre venti quattro ok? quindi questi sono i due bilanci che dovrà fare la exor quindi per l'anno prossimo c'è ovviamente la terza capitalizzazione con aumento di capitale ok? quindi questo è tutto e si preparano alla salto finale dalla società quindi io la penso così perché sono i voti loro ok? e io su questo mi soffermo qua quindi mi raccomando e portiamo e portiamo un aumento se non mi merita un aumento ferrero ok? perché se noi vediamo così allora possiamo vincere un aumento perché se non mi merita la rinacchina in classifica quindi questo è quanto sul sistema corrotto che c'è dietro di noi perché noi abbiamo la fortuna di avere una società italiana abbiamo dei tifosi da conquistare e dobbiamo anche crescere per prendere un qualcosa davvero storico come una storia che andrà alla jumentus ok? quindi la storia della società della jumentus tutto per l'amore di questa mania per i tifosi e inoltre dobbiamo reagire di quindi questo è tutto va bene? quindi ho detto tutto su prepartita di io vettorino e chissà ha detto che ce la possiamo fare però aspettando a marzo aspettiamo fino a marzo per ingerire lo scudetto e tutto perché io conosco come da quando siamo arrivati a Torino perché ci siamo conosciuti alla Fiorentina e ora sto bene a giocare con Dusan quindi questo ha detto Federico Chisa perché parlando l'Inter ok? questo è tutto da parte da l'Aione e questo rimarrà ok? e noi ci vediamo per stasera e per il dopodomani per il post partita di io e Torino mi raccomando e forse io mi ringrazio sempre e fino alla fine sempre insieme a te forse io e alle dove giocherai ti seguiremo a te ci saremo noi sempre insieme a te forse io e alle noi giocherai ti seguiremo a te ci saremo noi sempre insieme a te forse io e alle dove giocherai ti seguiremo a te ci saremo noi sempre insieme a te forse io e alle dove giocherai ti saremo a te ci saremo noi sei la più bella che c'è siamo pazzi di te siamo pazzi di te se vittoria sarà la curva sul candera ty mi dov TO mi è me se lo siamo sempre Fors manque